Musica Buona giornata cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi e con il nostro ospite. Allora, ben arrivato perché effettivamente da tanto tempo, anzi non era mai venuto nella mia trasmissione anche se ci conosciamo da tantissimo tempo, da tanto tempo, Sebastiano Arcoracci, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. In veste di componente sindacale del tavolo permanente per il lavoro in regione del Veneto, coordinatore regionale UGL pensionati, quindi un sindacato dei lavoratori, che però anche la veste sindacato dei pensionati, responsabile dello sportello consumatori sempre UGL, poi tanti altri ruoli, tanti altri incarichi e anche passioni, perché dopo aver lasciato ormai da tanto tempo in qualche modo la politica attiva, sei stato assessore, eccetera, è scrittore, è anche scrittore di romanzi, vero? Grazie, sì, questo mi fa piacere che tu lo abbia evidenziato perché... Genere gialli. Sì, 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 amo proprio scrivere, amo scrivere, mi piace scrivere, credo che sia un arricchimento dell'anima e ti fa riflettere molto, ti fa crescere e le storie che hanno, diciamo, un finale non proprio scontato mi piacciono, mi sono sempre piaciute, però non ho scritto solo gialli, ma diciamo che il noir... Anche i libri un po' più impegnati, sì, sì, anche impegnati, io invito tutti, tutti noi siamo capaci di scrivere un libro, li invito tutti non solo a scrivere, ma anche naturalmente a leggere, leggere tanto poi ti porta a scrivere. Il problema è purtroppo in Italia degli editori che oggi in Italia editori veri e puri, ce ne sono pochi, e quei pochi che ci sono scelgono loro i grandi nomi, i big, il Vespa di turno, piuttosto che altri che quando fanno i libri naturalmente vendono migliaia e migliaia di copie e i piccoli autori vengono sempre trascurati, però noi ce la mettiamo tutta. Bisogna sempre cercare di comunque qualche modo di trovare degli spazi, questo è fondamentale. Allora, questa volta investe da una parte di tutela dei consumatori, dei cittadini, in un momento molto particolare, perché il sindacato si occupa anche di questo, e dall'altro abbiamo il discorso dei pensionati, che non è una cosa di poco conto. Noi ne parliamo spesso perché i nostri telespettatori che ci seguono sono molti, sono anche anziani, alcuni sono pensionanti e pensionati, per cui c'è anche un forte interesse da questo punto di vista, e sapere che ci sono più entità che si occupano della loro tutela, in qualche modo, di trovare delle garanzie, di far fronte alle tante difficoltà che si incontrano, diventa importante. Perché, se sei retario, siamo verso una società di anziani, neluttabilmente, sempre più, che se ne voglia rendere conto, no? Certo. Quali sono? Pensate a Padova, a Padova è incredibile, ma proprio gli ultimi dati che ha dato l'ufficio anagrafe del Comune, l'ufficio statistica, più di un terzo dei abitanti, specie in alcuni quartieri, è over 65, addirittura over 75. Quindi, le politiche anche sociali del Comune, le politiche anche delle scelte economiche, anche del Comune, ma di tutte le istituzioni, dovranno essere riposizionate rispetto a questo tema, che fino a qualche anno fa non si pensava potesse giungere così a questi livelli. Ed è evidente, quindi, che le persone anziane, che però io distinguerei in due piccole sottocategorie, le persone anziane solo come età anagrafica, e le persone anziane che invece hanno bisogno di essere accompagnate. Quindi non più del tutto autosufficienti. Non più del tutto autosufficienti. Per fortuna ci si arriva anche tardino questa situazione, molti. Oggi per fortuna ci si arriva tardino, perché la scienza ha fatto molti progressi, perché anche lo stile di vita che molti italiani conducono, per fortuna siamo al secondo posto dopo il Giappone, per longevità, ci rassicura. Però è evidente che, ad esempio, su quell'area dell'autosufficienza, di quello che io chiamo diversamente anziano, anzi di quello che io chiamo cittadino attivo, va colta come risorsa, non come spesa, non vista come un problema, ma visto come risorsa. Pensate al ruolo che questa categoria svolge nelle politiche familiari, come il caregiver, ad esempio. Una politica che guarda con attenzione e riconosce il ruolo, e finalmente il decreto attuativo della legge 33 del 2023, per la prima volta parla di caregiver. Quindi riconosce la funzione sociale del caregiver, che non era mai successo. Questa testimonianza del fatto che oggi questa categoria di persone è, come dire, è appunto uno strumento a servizio del bene comune, che va colto, che va utilizzato. Pensate, per esempio, a tutte le guide che oggi vi sono in particolar modo in alcuni siti museali, oppure ai nonni cosiddetti vigili. Quindi continuare a cercare di valorizzarlo come risorsa, sostanzialmente. Come risorsa, io mi sto battendo in maniera pazzesca, e tra qualche settimana sarò invitato al Tauro per l'invecchiamento attivo, che è un'altra regionale, con l'assessore Lanzarine, che è molto attenta su questi temi, proprio perché voglio che desidero, chiederemo che le politiche sociali vadano incontro verso questa direzione, cioè che sappiano cogliere queste energie che ancora sono pronte per dare alla società, per dare alla regione, per dare ai comuni, e che appunto vanno valorizzate. E cambiare approccio, cambiare modello culturale, cioè non vedere una persona come anziano. Guarda, è incredibile. Io l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Una volta che tu esci fuori dal processo produttivo, sembra quasi diventi una persona trasparente. Ed è il motivo per il quale anche psicologicamente molte persone si incominciano a sentire fuori dai giochi, si deprimono, si invecchiano, soprattutto a parte degli uomini, perché le donne riescono magari a trovare qualche cosa, qualche ruolo, anche se non altro di carattere familiare. Però l'invecchiamento psicologico avviene proprio con questo non sentirsi più utili. E considerati tali... Esattamente, il che è il contrario. Il che è, per quello che dicevo anche prima, il contrario. Quindi le politiche di invecchiamento attivo sono benvenute. Questa regione potrebbe essere, ed è in parte, il capofila di politiche sociali che sono attuate dalle regioni, perché la salute e il sociale per Costituzione è demandata alle regioni, che potrebbe attuare alcune iniziative in questo senso. E alcune sono già lo studio. Quando, per esempio, si parla di... Eh, tipo, facciamo anche... Ah, quando, ad esempio, forse pochi conoscono, sono sicuro che anche i padovani e i veneti pochi conoscono, le palestre della salute. Sì, io le conosco. Ecco, le palestre della salute sono uno strumento che invitano, appunto, le persone che ancora sono in gamba, a tenersi sempre in forma. Non vedere, quindi, l'anziano come colui che deve fare piccole attività, per carità, che non si muova troppo, di quelle, diciamo, leggere, o di quelle fra persone anziane. No! Io sono, per esempio, farò questa proposta di una card dello sport a favore di queste persone. Ma non per andare... Eh, ma non per andare alle attività, ad esempio, motorie che fa il comune di Padova, per gli anziani, per carità, buona iniziativa, ma per andare nelle palestre. Ecco, però io le chiedo questo, perché, appunto, allora, queste palestre della salute, proprio puntiamo l'accento su questo aspetto qua, per le quali vengono... cioè, vengono anche prescritti delle iscrizioni in palestre della salute per far fronte a patologie, patologie cardiologiche, post-umorali, dire, diabete, ci sono diverse... Perché ci sono delle persone qualificate, certificate, sono quelle palestre, che non sono tante, sono effettivamente poche, sono poche, per le quali puoi ovviare a una cura anche farmacologica o attenuarla, dopo la seguito della valutazione medica, se segui un percorso terapeutico fatto di esercizi fisici. Questo per... Il problema è che queste benedette palestre della salute sono estremamente costose, ma molto costose, per cui se un medico mi prescrive questa cosa qua, io tutto contento, dico bene, bene, così sono seguito, eccetera, vado lì e resto bloccato, se sono un pensionato, resto congelato, perché sono inaccessibili, sono le palestre più cari, non faccio i nomi, però sono più cari, in assoluto, e sono corsi estremamente onerosi, per cui non si possono proporre palestre della salute come terapia di un sistema sanitario nazionale, perché io mi immagino che a questo punto pago solo un ticket e faccio i corsi non a pagamento, perché altrimenti uno dice, no, vado a camminare con le bastoncini, faccio trekking, l'anziano, insomma, non posso permettermi quella cosa va. Ed è per questo che io, approfondendo in questi mesi questa questione, ho sollevato appunto questa eccezione all'assessorato regionale e anche all'USL di Padova. Come si supera? Si supera intanto concordando col privato delle tariffe, perché oggi l'80% di queste sono effettivamente quasi inaccessibili per gente che ha una pensione normale, figuriamoci per quelle basse. Ma anche un reddito, anche un reddito, sì. Quindi si supera in questo momento la regione non l'ha fatto questo accordo, non ha un protocollo. Io ho chiamato, ho parlato e loro dicono beh, loro si sono prestati, sono idonee, perché ci sono degli ispettori che fanno delle verifiche con alcuni criteri per capire se rientrano in un concetto di palestra della salute, ma la regione non ha affatto un protocollo con loro. Però intanto vengono prescritte queste palestre della salute, quindi il cittadino si trova con la prescrizione. Però è sempre libera, attenzione. Noi invece stiamo, io sto pensando, c'è un disegno di legge presentato anche al Parlamento, che lo sport venga inserito come farmaco. C'è già lo studio una cosa. Questa è la seconda modalità a livello nazionale per fare in modo che se te lo prescrive il medico tuo di base come farmaco, cioè anziché prendere la pillola tu vai e prendi questo farmaco che è fare sport, in quel caso tu sei assistito e rientri nell'ambito del sistema sanitario nazionale. Questa sarebbe una battaglia di civiltà incredibile, bellissima, per cui in questi prossimi mesi noi, per primi, ma anche altre organizzazioni si stanno impegnando in questo, potremmo raggiungere, dobbiamo raggiungere a questo risultato. Ma io intendevo addirittura per superare sempre accanto alla palestra della salute, accanto al discorso del farmaco, io intendevo anche un'altra iniziativa che è quella della card, dello sport o della salute che deve essere garantita a tutti, a una fascia di categoria di persone. Pensiamo agli over 75, quella over 65 comincia a costare troppo, facciamola per gli over 75, finanziata dalla regione, finanziata. Però i soldi non ci sono? No, se si vanno a cercare i soldi si trovano. La questione di Chiusi dice non ci sono i soldi, non è vero, vanno trovati, bisogna saperli cercare, e quindi io credo che con questa misura, ad esempio, noi potremmo far accedere, ma ripeto, in palestre normali, cioè io devo scegliere di andare in una palestra qualsiasi, dove a Padova siamo ricchi di queste strutture sportive, e non sentirmi uno assistito, perché la chiave di volta è non far sentire queste persone anziane, bisognose, o malati, o quasi malati. Assolutamente. Torniamo su questi aspetti, perché questi sono molto importanti. Lo facciamo dopo un brevissimo break, quindi restate sul 19, se volete approfittate ne potete fare anche delle osservazioni via WhatsApp relativamente a questi temi. Continuiamo subito dopo la pubblicità, allora.